Allora carissimi amici e amiche, benvenuti. Parliamo ancora di Pierina Paganelli. Dopo aver fatto questi due video più brevi circa l'evidenziazione di quei tumori delle 22 e 16 e della precisazione per il dottor Milo Infante, adesso facciamo una disamina un po' più generale su questo caso che così tanto sta appassionando, insomma, un po' tutti. E certamente non sfugge che tutto ruota intorno a quei momenti in cui la procura dice e lui se l'assassino va a buttare il coltello, passa sotto a quella telecamera. Però credo che, alla luce del fatto che l'altra sera sono state fatte nuove sperimentazioni, ma non sperimentazioni sotto a quella famosa camera delle 22 e 17, ma sotto al garage per sentire le urla, per sentire come si sentiva, insomma, quella sera dalla telecamera, hanno simulato tante di quelle cose. Ciò che cosa significa? Significa che la procura cerca ancora, vuole degli elementi più certi che non ha, ma non è che non ha perché poi la procura non credo che agisca in una maniera preconcetta, agisca per la verità. Per cui, ecco che questa notizia che ho avuto, ho ascoltato, insomma, sia dalla vita in diretta che la storia italiana e che praticamente prossima settimana dovrebbero essere risentiti nuovamente un po' tutti, in particolare, si dice, Loris e Manuela, la dice lunga. La dice lunga perché le indagini non sono affatto chiuse, non sono affatte chiuse perché c'è qualcosa che non torna. Amiche mie, qualcosa non torna. Innanzitutto non torna il fatto che, se davvero poi risulta che quello che passa alle 22 e 17 lì potrebbe essere il condomino, e allora quella che è, diciamo, questa prova regina viene a mancare, ma non è una prova regina in quanto chissà cosa dimostri. Diventa regina la prova perché, per la semplice circostanza che il Luis aveva, ha sempre dichiarato, di non essersi mosso da casa. Quindi, voi immaginate che per la sola circostanza di certificare che alle 22 e 17 lì si rientrasse, vuol dire che crolla tutto l'impalcatura, come si dice. Però, questa che era la prova regina per questa, per questa osservazione qua, soprattutto, sta per venire a mancare perché, davanti a qualsiasi coste d'assise, il dubbio che sia il condomino, ma è più che un dubbio, diventa quasi una certezza, non fosse altro che per il ragionamento logico che questo condomino non vola, cioè non si smaterializza. Nel momento in cui lui stesso e la moglie dicono, è così, lui si alza e viene a casa, noi non possiamo pensare che non passi di lì, che sono 50 metri, tutto al più. E quindi, se non viene visto nessun altro, o il condomino, o non so quale spiegazione si possa dare. Per cui, è già questo. Ma questo fatto di Luis che tornava, soprattutto con, come dice anche la dottoressa Bruzzone, che è strano che lui abbia qualcosa sotto al braccio, e io l'ho detto tante volte, ma voi avete mai visto un criminale, qualcuno che esce per buttare ed entri con qualcosa sotto al braccio? È strano anche questo. Poi, sul fatto di un Luis che torna, vuol dire che è uscito. Ecco per quale motivo la procura ipotizza che lui, subito dopo il delitto, esca a buttare questo coltello nella spazzatura, che anche qui, come dice anche la dottoressa Bruzzone, anche in questo caso qua, è una cosa strana. Strana, ma veramente illogica, perché è l'unico posto dove un coltello usato per un omicidio non si deve mettere. Perché? Perché poi c'è la notte, per cui qualsiasi persona che scopre il cadavere, scatta l'allarme e viene bloccato il conferimento della spazzatura. Sono procedure standard. Il coltello si può nascondere in qualsiasi modo, soprattutto lì che dietro a questi palazzi c'è del terreno, voglio dire, si può mettere in una buca, qualsiasi cosa, vedete? E allora è stato dedotto però che lui facesse questo percorso, però tempi alla mano, è anche qualcosa da fare proprio correndo. Noi abbiamo visto come questa persona che passa alle 22.17 sotto la gamma, è una persona che cammina. Quindi voi pensate che se alle 22.17 questo ipotetico Luis torna, quindi sta vicino al... proprio vicino al postoncino. Vuol dire, è supponente che non è uscito di là perché non è stato visto, quindi che ha fatto un giro più largo. Voi immaginate. 22.13.30, l'accortellamento, che praticamente, che volendo fare presto, dovremmo pensare a un Luis che esca alle 22.15, almeno un minuto, un minuto e mezzo per fare tutto, no? Diciamo che esce circa alle 22.15, avrebbe poco più di due minuti, due minuti, per fare tutto un giro, si è supposto che avesse fatto, all'andata tutto un giro lungo di 200 metri, per andare a conferire questo coltello. Dopodiché ritornare, facendo un altro giro, passando poi, incredibilmente, sotto i balconi, vicino al base, e questi due minuti sembrano veramente pochissimi. Quindi, e quindi è questa che non torna. Non torna per cui si è pensato a qualche forma di collaborazione. Poi, se pensiamo a quel famoso rumore di cui ho fatto proprio una ricostruzione filmata, pensiamo che è più probabile che l'assassino non si sia mostro da lì. Cioè che l'assassino, come ha detto sempre pure la dottoressa Abduzzone, è più logico che dopo il delitto sia salito sopra. Sia salito sopra. A cambiarsi, poi abbiamo avuto tutta la notte per fare altro. Abbiamo anche quei tumori di ascensore, che poi ci dimentichiamo le cose. Mi sembra fra le 12.30 di notte, quindi nel 0030 e nel 0045, sembra che ci sia un tumore e è stato verificato un movimento di ascensore dal piano garage al secondo piano. Quindi come se qualcuno nottetempo fosse sceso a vedere, a verificare, a sistemare. Che vi devo dire? Io già nel video di ieri vi ho detto che di questi elementi, fatta ormai chiarezza, grazie anche a me voglio dire, fatta chiarezza sul fatto che non esiste altro, complice eccetera, esterno, noi rimaniamo con i quattro del pianerotto, teoricamente, per scarità, nessuno si rizzerasse. Ora, di queste quattro del pianerottolo, l'assassino è un maschio, quindi rimaniamo a due, di cui la procura dice è uno che è lui. Ora, quindi, fatto salvo, diciamo, Valeria che teoricamente non dovrebbe avere nessun tipo di implicazione, seppur ha reso una marea di dichiarazioni ondivache, Manuela è il perno, abbiamo detto, emotivo di tutta la storia, perché è l'unica che ha veramente emozioni per tutti, con Valeria, con Luis, con Loris, e qualcuno dice, ma o è una mente criminale che lei sa tutto, ha organizzato tutto, ha fatto tutto lei, dicono, oppure potessi effettivamente che non sappia niente. Se lei non sa niente, vuol dire che qualcuno ha fatto qualcosa per lei e lei nemmeno lo sa. E la frase che disse Loris, Loris quel quattro mattina, parlando con Luis alla presenza di Valeria, dice qualcuno risolve i problemi per lei e lei nemmeno lo sa. E questo, e lei nemmeno lo sa, trova, come dire, una sorta di avallo anche in altri due aspetti. Un messaggio di Luis che dice tu non sai, tu non sai quello che io sto facendo, faccio e farò per te. E anche in quel colloquio catturato lì in quest'ora del giorno 4, vediamo una Manuela, ve l'ho detto, che o, dobbiamo dire, è l'Oscar di tutti i commedianti oppure effettivamente sembra che lei si domandi più volte ma come è stato possibile? Ma come può essere successo? Ma io davvero non l'ho riconosciuto. Ma come potevo riconoscerla? Per me non era lei. Cioè, una espressione di meraviglia che porterebbe a supposare che effettivamente Manuela non fosse a conoscenza. Quindi, se noi supponiamo questo, dobbiamo pensare che l'unico oltre a Luis che può avere un'implicazione sia Loris, anche se Loris non è indagato. Però lo stesso Loris è colui che più volte si tira in mezzo quasi involontariamente con delle dichiarazioni anomali come quando dice il movente lo avrei potuto avere pure io che per difendere mia sorella avrei potuto uccidere. Quando dice rivolgendosi a Valeria ma Valeria mi accusa ma non ha paura se dice che io sono un criminale non ha paura che io possa farle del male che io posso ucciderla fa capire questo. Dice parla di complicità parla 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 dice Luis non mi accusa perché accusando me accuserebbe se stesso quindi è come se si auto richiamassi in corretà questo è il modo colorito di esprimersi però poi l'ha detto lui come quando vengono alla mente le parole di Chiara la figlia di Pierino che dice lui si prende dei psicofarmaci pesanti mi ha detto quando sente la necessità di uccidere quindi tutto questo porta in un certo senso poi vedete in questa faccenda ci sono anomalie agliosa ma veramente agliosa perché questo fatto sempre dei farmaci è un light motivo che ritorna ritorna spesso e volentieri perché abbiamo una a un certo punto una manuela se vi ricordate che accusa Valeria di dire parli proprio tu che alcuni giorni dopo il delitto mi dicesti al limite venite tutti a casa mia tu Loris con lui e ci suicidiamo tutti ci suicidiamo assumendo i farmaci che lei aveva a casa cosa negata ovviamente da Valeria diceva no ma io parlavo di me e così però Manuela fa questa accusa a Valeria quindi abbiamo un'accusa di voler assumere farmaci questi farmaci per un suicidio collettivo ma abbiamo un Loris che quando ipotizza una ipotetica colpa della sorella dice io posso immaginare che lei avendo abusato di psicofarmaci ma allora fa intendere che anche fa intendere che anche Manuela fa uso di psicofarmaci capite e lui stesso dice si io faccio uso di psicofarmaci ma non perché voglio uccidere ma quando mi voglio suicidare voglio dire è un light motive di questi psicofarmaci che girano in una maniera incredibile e inquietante direi io quindi c'era poco da stare tranquillo con questa povera Pierina ora per carità noi ci muoviamo sempre nel binario di quello di quello che dice la procura la procura ad oggi dice però Manuela e Loris non c'entrano Valeria è inattendibile è stato lui però le indagini continuano devono essere riascoltate io credo specie Loris ha qualcosa da chiarire per questi suoi atteggiamenti per il fatto che era l'unico che lì teoricamente quella sera non doveva stare perché non ci abitava e che capita lì per questo famoso fantomatico incidente di 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 i dubbi ci sono sono legittimi che se ne dica magari saranno campate in aria ma sono dubbi che ruotano sempre ai quattro del 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 contominio questo è quindi le indagini in effetti proseguono e se noi non possiamo più ormai guardare al di fuori dobbiamo andare a guardare al di dentro effettivamente il cerchio si stringe e si stringe come un cappio praticamente perché non può essere solo Luis ma ma Luis si trova in una condizione incredibile in cui forse non gli conviene dire le cose perché avrebbe delle forti colpe pure lui ma non ha altra scelta che parlare come pure voglio ribadire la scelta penso molto negativa da parte mia per quella che ne posso pensare io di non sottoporsi all'incidente probatorio sotto la telecamera per vedere se lui non è lui perché perché è ovvio che in un eventuale processo indiziario questo sottrarsi non è indice di innocenza ma è indice di colpevolezza perché basterebbe ragionare minimamente io non voglio entrare nel merito dei cavigli giuridici in cui gli avvocati se strettamente ne sanno di più ma ma sul ragionamento logico no perché perché se uno si professa innocente e soprattutto se dice non sono sicuramente io che passo sotto quella gamma non può temere nulla cioè non può temere che la tecnologia qualsiasi essa sia possa certificare che sei tu non lo può certificare semplicemente perché tu non sei quindi nessun artificio tecnologico può stabilire quello che non è per cui se davvero lui non è passato io non dico nemmeno se è l'autore dell'omicidio o niente ma se lui non è passato sotto quella delle gambe non può temere il fatto che si rifiuti che la sua difesa lo faccia rifiutare secondo me è indice di grande debolezza e induce maggiore sospetto poi per il resto il fatto che lui non parli che lui non risponda è un'altra scelta sbagliata dal mio punto di vista perché io posso capire il silenzio del colpevole non posso capire il silenzio dell'innocente anche che lui è implicato in un certo qual modo certamente a questo punto non può sfuggire più alle sue responsabilità ed io ho preso atto di quello che ormai è successo per cui mai si può immaginare che le indagini possono andare in un'altra direzione allora io preferirei oggi avere un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti qualsiasi siano le mie responsabilità però se non sono responsabilità esclusive e io escludo che siano esclusive appunto allora io chiamerei il PM direi io adesso vi dico tutto atteggiamento collaborativo lui è incensurato fino ad oggi per cui potrebbe sperare come dire in una pena più mite diciamo secondo le sue eventuali colpe ma così no così no penso che sia dei calcoli sbagliati anche perché tutto ciò che ormai è la storia d'amore l'infatuazione Manuela eccetera sono crollati tutti è crollato tutto è crollato anche il matrimonio con Valeria che se ne dica perché di facciata vogliamo dire sì io difenderò mio marito fino alla fine però come ma se se anche domani mattina fosse scarcerato ma con quale stato d'animo dopo aver visto due tre mila cinque mila foto di baci di carezze tu potresti mai più avere un rapporto normale con tuo marito è finito il matrimonio come è finito anche il rapporto con Manuela è finito di fatto praticamente perché Manuela di fatto l'ha buttato giù dalla tose anche se formalmente dice sì ma sta sempre nel suo cuore eccetera ma comunque lei ne ha dubitato dal primo momento ne ha dubitato per essere lui l'autore dell'attentato diciamo a Giuliano ne ha dubitato dal primo momento che lui abbia ucciso Pierina si è confidato anche con con il fratello e anche nelle interviste più recenti dice la procura fa bene il suo dovere sta facendo ottime cose che poi residuamente dica sì però io ho sempre l'idea che vorrei che lui ne uscisse da questa cosa però l'ha buttato giù dalla tose perché se davvero fosse stata quella non solo la donna innamorata ma sicura della sua innocenza la Bibbia gridata sempre e comunque quindi sarebbe bene lui sapere prendere atto di questa circostanza e di dire le cose come stanno per il resto vedete qua c'è poco da muoveri come dire i pezzi sulla scacchiera c'è poco da muovere siamo a un passo dallo scacco matto e non credo che ci sia un solo colpevole questo è per il momento questo è tutto oggi abbiamo fatto diversi video su questo argomento ognuno con le sue peculiarità penso di aver fornito elementi validi e vorrei tanto che li condividete con tutti quanti un abbraccio a tutti quanti voi di aver fornito